bentornati raga qua è savix che vi parla benvenuti in questo nuovo video e benvenuto per chi è nuovo nel canale allora oggi vi porto un metodo per andare a fare questa modalità ragazzi difensore montezzaia con non due armi ma una decina di armi nell'inventario potremmo metterci tutte le armi che stanno in esposizione ragazzi in questa maniera se poi volete fare anche il glitch per salire di xp livello giocatore e maxare le armi che stanno in esposizione vi lascio il video in descrizione quindi andiamo ad avviare montezzaia ragazzi con un amico o da soli come volete voi andate su schiera e andiamo poi a mettere importante medico ragazzi che ci darà più xp mi scuso per la mia voce del cazzo raga ma questi giorni ho fatto un po lo stronzo e questo è il risultato comunque sia una volta che avete preparato avete messo medico e avete startato ragazzi con un amico o da soli con un random avviate la missione a questo punto regà una volta spawnati dovremo andare per forza a comprarci il kit di rianimazione se no lo prendete nel dado io ve lo dico quindi comprate il il kit di rianimazione che è fondamentale per questo glitch ci mettiamo in questo punto ragazzi lanciamo una granata e dobbiamo praticamente ammazzarci una volta che siamo per terra ragazzi teniamo schiacciato se giocate da play triangolo e quadrato se giocate da xbox y e quadrato ragazzi per due secondi dopodiché comprate tutte le armi possibili immaginabili adesso ve lo farò rivedere rallentato regà quindi mi uccido vado per rianimarmi nel frattempo schiaccio x io gioco ad xbox per un secondo due vedete la barra che carica un pochettino e subito dopo raga lascio il tutto e vado a prendere tutte le armi che stanno in esposizione le prendo tutte e avrò nell'inventario tutte queste armi quindi automaticamente avere tutte queste armi nell'inventario equivale a fare la missione molto molto più facilmente mi raccomando raga una volta prese le armi rianimatevi subito perché sennò dopo un po che siete a terra morite ve lo dico se andate a livellare le armi raga non le livellate tutte sarebbe troppo bello ma vi posso confermare che poter fare la missione con tutte queste armi diventa il 50 per cento più facile raga ve lo assicuro ora lo sta facendo anche il grix nel frattempo raga guardate in basso a destra che vi faccio scorrere nell'inventario tutte le armi guardate che bomba è una cosa allucinante come vedete ciò tutte le armi nell'inventario non ne ho solo due come di norma ma ne ho una marea adesso vi faccio vedere anche per farci due risate cosa vediamo dall'altra parte guardate il grix che scambia le armi guardate non sa manco più dove metterse le raga e mi scuso ancora per la voce perché farà pena comunque se questo video vi è piaciuto se questo glitch vi è piaciuto lasciate un like lasciate un commento supportate xavix condividete i miei video iscrivetevi e attivate la campionellina bella raga alla prossima sbada bam